Benvenuti su Ultimora Gossip e TV. Prima di iniziare ricorda di mettere un like, seguire il canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati punto e, un piccolo gesto che per noi significa tanto. Alfonso Signorini sarà affiancato da due opinioniste nella nuova edizione del Grande Fratello, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Quest'ultima è stata la seconda classificata della scorsa stagione. La Casa del Grande Fratello riaprirà il 16 settembre. E sono giorni cruciali per le anticipazioni sul cast. La novità di quest'anno è l'inserimento di una seconda opinionista, oltre a Cesara Buonamici. Beatrice Luzzi ha preso il posto di Perla Vatiero, secondo quanto rivelato dall'influencer Alessandro Rossica. Beatrice era molto amata durante la sua partecipazione alla scorsa edizione. Rossica afferma che Perla Vatiero è stata scartata all'ultimo momento a causa del suo manager. Questo retroscena ha sorpreso molti fan della trasmissione. L'influencer ha aggiunto che Perla non riesce più a lavorare in televisione a causa della cattiva reputazione del suo manager. Questo ha aperto la strada a Beatrice Luzzi. Tra dieci giorni, Alfonso Signorini darà il via alla nuova edizione del Grande Fratello. L'ingresso ufficiale di Beatrice Luzzi nel cast sarà annunciato a Verissimo. Tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero c'è sempre stata tensione. Le due si sono scontrate spesso durante la scorsa stagione del Grande Fratello. Se l'indiscrezione di Rossica è vera, allora la scelta di Beatrice Luzzi come opinionista è l'ultima goccia in una lunga serie di tensioni tra le due. I fan del Grande Fratello sono curiosi di vedere come si evolverà questa dinamica nella nuova edizione, che promette di essere ricca di colpi di scena.